Salve, salve da Marco Calabro per conto di celocost.it, ci troviamo oggi a Pattaya in Thailand e stiamo vedendo il Malay Bar Appartement, è una ghost house che vediamo se si riesce a mettere a fuoco sulla camera, eccolo qua è entrato un po' a fuoco, è una buona soluzione perché ha un appartamento matrimoniale molto bello che vendono a 550 baht, che è veramente bello ed è una buona soluzione low cost, siamo però a due isolati, dalle quali isolati significa due strade dalla spiaggia e poi hanno anche una stanza a 450 baht, un poco più bruttina, che abbiamo visto qualcosa di meglio a 400 baht qua sempre a Pattaya, quindi andando a vedere i video di celocost vi rendete conto che ci stanno delle soluzioni che possono essere migliori. Grazie per ascoltare i video di celocost e arrivederci al prossimo video.